carissimi amici e amiche siamo ad un nuovo incontro del ciclo di catechesi sul mistero dell'uomo che è giunto alla puntata adesso vi dico questa è la puntata numero 9 e oggi affronteremo un tema che a cui però lo affronteremo dentro questo contesto però rimando per approfondimenti all'intero ciclo di catechesi che ho fatto su questo tema che è appunto il peccato originale origine da ogni male ma anche può essere utile per comprendere ancora meglio il discorso sul peccato originale l'altro ciclo di catechesi che è Adamo e la vita nella divina volontà che spiega secondo le rivelazioni di Gesù alla serva di Dio Luisa Piccarreta come era la condizione dell'uomo prima del peccato originale e semplicemente dettagliando alcune cose che vedremo anche questa sera ovviamente questa sera affrontiamo questo discorso dal punto di vista della dottrina cattolica dell'insegnamento quindi dovremmo vedere la chiesa anche alla luce di alcune stupidaggini che poi gli eretici hanno detto nel corso della storia in particolare come sempre gli errori fatti su questo tema perché purtroppo i grandi errori antropologici derivano dalla riforma luterana come abbiamo capito e spero che ricordiate la radice della riforma luterana è Guglielmo Dockham è la svolta quella pazzesca svolta culturale che si determina con questo personaggio la cui eredità è perfettamente raccolta dall'ambiente tedesco luterano sapete che i tedeschi sono sempre stati un popolo di grandi filosofi nel senso molto intelligenti però è molto intelligenti che purtroppo molte volte però con tutta questa grande intelligenza hanno prodotto dei guai pazzeschi, Marx era tedesco, Hegel era tedesco, Nietzsche era tedesco quindi ho fatto soltanto tre nomi ecco non parliamo poi in campo giuridico altre cose che sono successe insomma Kelsen, una norma fondante quindi è un ambiente un pochino caldo da cui capite quando la ragione che è un'ottima cosa però quando la si fa funzionare in un modo avulso dal contatto con la verità oggettiva specialmente rivelata da Dio diventa pericolosa perché Lucifero era il più intelligente di tutti la sua intelligenza insomma non l'ha portato a dove dovrebbe portare normalmente ma l'ha depravata e quindi è diventata una devastazione assoluta allora quindi per quanto riguarda il peccato originale nella saga scrittura abbiamo ovviamente il racconto della Genesi il capitolo terzo che è assolutamente normativo e poi un brano molto importante della lettera ai Galati scusate della lettera ai Romani che è stato peraltro il fondamento proprio dogmatico della dottrina del peccato originale così come trasmessa dal concilio di Trento allora non so se è il caso di andare a rileggere forse sì rapidamente proprio il racconto del peccato originale abbastanza sinteticamente così come è scritto nel libro dell'Andera Genesi il serpente era la più assuta di tutte le bestie servatiche fatte dal Signore Dio e gli disse alla donna è vero che Dio ha detto non dovete mangiare di nessun albero del giardino rispose la donna al serpente dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto non ne dovete mangiare e non lo dovete toccare altrimenti morirete ma il serpente disse alla donna ma non morirete affatto anzi Dio sa che quando voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi diventereste come Dio conoscendo il bene e il male allora la donna vide che l'albero era buono da mangiare gradito agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza prese del suo frutto e ne mangiò e poi ne diede anche al marito che era con lei e anche egli ne mangiò allora si aprirono gli occhi di tutti e due e si accorsero di essere nudi intrecciarono foglie di figo e se ne fecero cinture poi udirono il Signore Dio che passeggiava nel giardino all'alberia del giorno e l'uomo con sua moglie si nascosero dal Signore in mezzo agli alberi del giardino ma il Signore chiamò l'uomo e gli disse dove sei? gli dispose ho udito il tuo passo nel giardino ho avuto paura perché sono nudo e mi sono nascosto e riprese chi ti ha fatto sapere che eri nudo? hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare? rispose l'uomo la donna che tu mi hai posto accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato il Signore Dio disse alla donna che hai fatto? rispose la donna il serpente mi ha ingannato e io ho mangiato allora il Signore Dio disse al serpente poiché tu hai fatto questo sei tu maledetto più di tutto il bestiame più di tutte le bestie selvatiche sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita io porrò in emicizia tra te e la donna tra la tua stirpe e la tua stirpe questa ti schiaccerà la testa e tu le insiterai il calcagno allora la donna disse moltiplicherò i tuoi dolori e le tue gravidanze e con dolore partorrerai figli verso tuo marito sarà il tuo istinto ma egli ti dominerà all'uomo disse poiché hai ascoltato la voce di tua moglie e mangiarlo dell'albero di cui ti avevo comandato non ne devi mangiare maledetto sia il suolo per causa tua con dolore ne trarrai il cibo per tutti i giorni della tua vita spine e cardi produrrà per te e mangerai l'erba campestre con il sudore del tuo volto mangerai il pane finché tornerai alla terra perché da essa sei stato tratto polvere tu sei e in polvere tornerai questo è il racconto genesiaco noto quindi però potrei leggerlo per inquadrare un pochino i tratti salienti ovviamente muovente del peccato diventare come Dio diventerete come Dio conoscente conoscendo il bene e il male la causa prossima del peccato originale il fascino del frutto proibito questo frutto proibito era qualche cosa che allettava profondamente l'atto la degustazione del frutto proibito le conseguenze di questo atto veramente devastante sono personali quindi inerenti agli attori protagonisti ma anche collettive nel senso che si riverberano su tutti i loro discendenti e sulla creazione stessa il maledetto solo per causa tua eccetera eccetera no allora questo peccato da un punto di vista qui non ripeto l'approfondimento che cosa era che cosa poteva essere c'è quel ciclo di catechesi ad hoc da un punto di vista proprio oggettivo dell'analisi biblica quello che si deve affermare con certezza è che questo fu un peccato storicamente commesso questa non è una leggenda o un mito come qualcuno dice la chiesa ha sempre affermato che il peccato originale è stato realmente commesso dal nostro progenitore il primo uomo di sesso maschile fu indubbiamente un peccato complesso perché coinvolge una serie di situazioni distinte la superbia diventare come Dio l'avarizia quindi il bramare il desiderare un qualche cosa che non era tuo più che l'avarizia è l'aviditano quindi la brama di possedere un qualcosa che non ti appartiene anche se non sono i soldi in questo caso e poi la degustazione di questo frutto che era buono gradevole quindi un qualche cosa che ha a che fare con i sensi sicuramente il compimento di questo peccato ha deformato l'immagine di Dio nell'uomo certamente ha alterato l'ordine naturale delle cose le relazioni uomo-donna e il rapporto dell'uomo col creato ed è un peccato irreparabile da parte dell'uomo la condanna di Dio è senza appello non c'è riparazione per questo peccato se non la famosa promessa del protovangelo che la donna avrebbe schiacciato la testa al serpente ma questa era una promessa evidentemente riguardante il futuro e di per sé l'atto è irreparabile da parte dell'uomo nella lettera ai romani come accennavo nel romani 512 che vado a prenderla esplicitamente perché appunto è esplicitamente nominata dal concilio di Trento nel decreto proprio sul peccato originale si legge come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e con il peccato è la morte così anche la morte ha raggiunto tutti gli uomini perché tutti hanno peccato ovviamente perché tutti hanno peccato non con un peccato personale ma perché tutti hanno peccato in Adano leggo proprio il passo del Denzinger dove la Santa Chiesa definisce attraverso il concilio di Trentino la dottrina sul peccato originale e la sua trasmissione a tutti gli uomini per propagazione questo è il termine tecnico con cui si descrive questo fenomeno spirituale ma molto reale il decreto sul peccato originale dice tra le varie cose sono tutti quanti canoni se qualcuno nega che i bambini appena nati debbano essere battezzati anche se figli di genitori battezzati oppure sostiene che vengono battezzati per l'emissione dei peccati ma che non ereditano da Adamo niente del peccato originale che sia necessario purificare con l'avacro della legge generazione per conseguire la vita eterna per cui nei loro confronti la forma del battesimo per la remissione dei peccati non deve essere ritenuta vera ma falsa sia anatema il peccato originale deve essere rimesso non è semplicemente una cosa perché inerisce a ciascuno come proprio non lo ha commesso ma essendo trasmesso appartiene al nascituro come se fosse proprio infatti quello che dice l'apostolo ecco la citazione a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e col peccato la morte e così anche la morte ha raggiunto tutti gli uomini perché in lui tutti hanno peccato vorrei andare a vedere tanto per avere una curiosità io ho letto chiaramente la versione della cei ma voglio andare a vedere vedete la vulgata che te possino nella vulgata c'è scritto perché mentre nella versione cei c'è scritto perché tutti hanno peccato ma nella nella versione della vulgata c'è scritto così la morte ha raggiunto tutti gli uomini e tite in omnes omnes perché tutti hanno peccato in Adamo e non capisco perché in greco c'è scritto la stessa cosa cai hutos eis pantas antropus o thanatos di elsen così verso tutti gli uomini la morte è arrivata dai raggiunti f o c'è scritto e p o cioè a causa del quale nel quale anche per mezzo del quale tutti pantes emart emarton io sono veramente senza senza parole quando vedo certe cose va bene quindi questo passo dice il concilio di Trento deve essere interpretato nel senso in cui la chiesa cattolica universale l'ha sempre interpretato e cioè per questa norma di fede secondo la tradizione apostolica anche i bambini che non hanno ancora potuto commettere da sé alcun peccato vengono veramente battezzati per la remissione dei peccati affinché in essi sia purificato con la rigenerazione quello che contrassero con la generazione citazione di Santa Costina che vedremo tra poco venisse purificato con la rigenerazione quello che contrassero con la generazione nel ciclo di catechesi dedicato ad hoc a questo tema ci sarà un'ampia riflessione su un concetto fondamentale che è in strada anche a farsi un'idea di quello che può essere stato il peccato originale cioè che il peccato originale si contrae nel lato del concepimento attraverso la generazione sessuata se infatti uno non nasce d'acqua e da spirito chiude la citazione non può entrare nel regno di Dio in San Paolo è molto accentuato il tema del peccato originale ed attuale e l'assoluta necessità di Cristo come salvatore degli uomini rimanendo nelle lettere romani intanto per andare a leggere qualcosa possiamo leggerci due versetti del terzo capitolo per esempio il non che dunque dobbiamo non ritenerci superiori no niente affatto abbiamo infatti dimostrato che precedentemente che giudei e greci tutti sono sotto il dominio del peccato peccato sia originale che attuale quindi il peccato originale ce l'abbiamo tutti quanti senza nostra colpa nel peccato attuale ci chiediamo tutti quanti con nostra colpa sempre rimanendo qui essendo questa la situazione dell'uomo tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia in virtù della redenzione realizzata da Cristo Gesù tutti hanno peccato tutti c'era solo una che ha sfuggito a questa a questa regola purtroppo ben triste ora andiamo a approfondire un po' vedere qualcosa qualche cenno ecco di sugli approfondimenti sul tema di Sant'Agostino e di Sant'Ommaso d'Aquino e poi la degenerazione di Rutero e la risposta del Magistero della Chiesa Sant'Agostino dice combatti anzitutto contro Pelagio Pelagio era un grande eretico un monaco che praticamente affermava che il peccato originale non si trasmetteva come vero peccato ai discendenti di Adamo perché aveva recato danni soltanto a lui quindi il peccato originale fondamentalmente secondo Pelagio era un cattivo esempio dato al genere umano ma non una rovina della natura umana e quindi si esce da questa situazione semplicemente con la buona volontà e con il non seguire quel cattivo esempio ma i buoni esempi quindi l'ascesi e la buona volontà ci tirano fuori dai guai Sant'Agostino oppone le fonti bibliche specialmente quelle che abbiamo appena visto soprattutto del rettere romani in particolare quel passaggio del quinto capitolo oppone anche la tradizione liturgica la chiesa battezza i bambini non battezza i bambini perché non c'è niente da fare e poi la concupiscenza non è affatto vero che noi non abbiamo nessun tipo di effetto San Paolo stesso ma questo non solo San Paolo San Francesco San Benedetto San Paolo scrive in una lettera in una seconda lettera di Corinzi se non ricordo male mi è stato messo una spina nella carne un messo di satana incaricato di schiaffeggiarmi andate a leggere l'esegesi di Sant'Agostino chi è quello lì non è tanto la tentazione impura è proprio l'accensione dei sensi che può prendere anche a un santo ripeto San Francesco e San Benedetto hanno dovuto combattere in maniera talmente come dire eroica contro il divampare della concupiscenza da doversi gettare dentro un fascio di rovina hanno fatto tutti e due e sia che si vada a Subbiaco sia che si vada alla Porzioncola ad Assisi ci sono dei roseti perché così si trasformarono che ricordano appunto questi eroismi di questi due grandi santi qui dice ma io la concupiscenza se non sto a pensare a niente di che chi è maschietto anche chi ha la grazia come me di essere stato per grazia di Dio preservato da tante cose quindi di aver conservato il giglio della purezza lo sa che cioè soltanto il pensare a certe cose devi avere il ribrezzo però stanno delle volte che senza nessuna causa adeguata tu ti ritrovi con i sensi impazziti non hai non hai fatto niente non hai pensato a niente non hai guardato niente non hai fatto niente e ti ritrovi così che devi fare? che è cattivo esempio di chi? cioè le cose contraddette dall'esperienza che è fatto uno? cioè non vuole non ci pensa non lo desidera non lo brama eppure sente dentro il proprio corpo nella sua carne gli stimoli lo stimulus carnis lo chiama San Paolo questo non è mica il cattivo esempio la concupiscenza certo la Chiesa ha sempre insegnato che la concupiscenza non è in se stesso un peccato ma purtroppo è una cosa che ti porta a peccare non è peccato sentire gli stimoli della concupiscenza semplicemente perché non possiamo evitarli è possibile quindi Sant'Agostino avrebbe concluso che altro che il peccato originale è una realtà oggettiva e per ogni essere umano che viene concepito esso è e rappresenta un peccato proprio anche se non commesso dal quale non si esce se non in virtù della redenzione operata da Cristo che te lo toglie attraverso il battesimo purtroppo le conseguenze rimangono intatte e sono il campo di battaglia della lotta ascetica quello sì che tutti quanti di noi tutti quanti noi aiutati dalla grazia di Cristo devono poi affrontare durante la vita terrena quello sì ora Sant'Omaso d'Aguino ovviamente dentro l'impalcatura agostiniano che ovviamente ovviamente condivide non può non condividere Sant'Agostino anche in ciò che la Chiesa disse già a suo tempo nel Concilio di Orange è stato assolutamente determinante e decisivo Sant'Omaso dà il suo contributo dicendo queste cose che innanzitutto il peccato originale è una disposizione disordinata derivante dal turbamento dell'armonia della giustizia originale bellissimo e qual è la giustizia originale la sottomissione a Dio della ragione e conseguentemente delle passioni alla ragione ora le nostre passioni vedremo più avanti cosa sono le passioni mi riservo più avanti proprio di approfondire bene la visione antropologica cristiana secondo i canoni dell'antropologia classica ovviamente quindi la concupiscenza e la perdita della giustizia originale sono gli elementi essenziali di questo peccato originale attenzione a quello che scrive San Tommaso come si trasmette il peccato originale mediante il seme dell'uomo il seme dell'uomo e dopo aver infettato il corpo infetta l'anima quindi attenzione dobbiamo pensarci a questo sempre rimando al ciclo di catechesiche per l'approfondimento la nostra anima è creata da Dio la nostra anima si infetta nel momento in cui che è meno di un nanosecondo d'accordo passa tra la creazione dell'anima e l'infusione nello zigote oggi noi sappiamo bene anche i termini tecnici con cui si chiamano queste cose è una cosa istantanea appena entra dentro lo zigote l'anima si macchia dopo aver infettato perché quello zigote è infettato a questo bisogna molto pensare approfondimenti nella fonte che vi ho detto quindi San Tommaso aggiunge che fu un peccato molteplice perché si sostanziò in vari atti peccaminosi lui individe la superbia la cupidigia la disobbedienza anche perché hanno trasgredito a un divieto imposto da Dio la concupiscenza quindi il desiderare ardentemente ciò che non si può appetire e poi l'infedeltà San Tommaso spiega che il peccato originale non è semplicemente un peccato della persona di Adamo no è un peccato che ha coinvolto la natura umana perché Adamo era il capostipide ed è per questo che si trasmette ora la trasmissione del peccato originale peraltro dice non è un'ingiustizia perché la perdita dei beni soprannaturali e preternaturali non è affatto un'ingiustizia perché essendo appunto beni soprannaturali e preternaturali all'uomo non sono dovuti assolutamente erano doni fatti da Dio all'uomo a condizione che avesse perseverato nella fedeltà al suo amore al suo servizio quindi non c'è nessuna ingiustizia ora Lutero adesso andiamo alle dolenti note sappiamo benissimo che nega l'esistenza del libero arbitrio una delle più grandi bestialità che si possa dire in assoluto e tra l'altro nella sua insomma follia dice che questo non soltanto sarebbe vero dopo il peccato che già insomma non è vero però ti sai la violenza delle passioni ti potrebbero far pensare che insomma tu quasi non puoi resistere in qualche modo sei coartato no? non è vero però no 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 anche prima secondo lui il peccato originale secondo Lutero è che l'uomo tentato da Satana si è insupermito mancando di fede in Dio e fidandosi troppo di sé e la conseguenza del peccato originale cioè l'insordine della concupiscenza secondo Lutero lui la intende non cattolicamente come inclinazione al male ma come vero peccato e secondo la sua visione non coincide con il disordine dei sensi e delle passioni impazzite ma con lo status di ribellione a Dio dell'intera persona l'inesistenza del libero arbitrio un po' concludo è intesa ovviamente da Lutero in un senso ben preciso cioè secondo lui dice che senza la grazia non si può fare nient'altro che il male e sotto il repuso della grazia sempre secondo lui non può fare altro che il bene questo non è vero nessuno dei due casi perché una persona in grazia a meno che non sia confermata in grazia può peccare e una persona senza la grazia sì non può fare beni meritori della vita eterna questo no ma una persona ma una persona malvagia dei beni naturali li può fare come quindi non è vero quello che dice Lutero in nessun senso è accettabile il magistero ha risposto alle grandi questioni cioè alle questioni peraltro opposte perché c'è Pelagio che dice non è niente basta la buona volontà e c'è Lutero che dice no 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 noi siamo spacciati la concubiscenza stessa è radicalmente cattiva l'uomo è incapace di compiere qualcosa buona lo ricordiamo comunque la redenzione è un appiccicaticcio quindi è semplicemente il signore che ci riveste dei suoi meriti ma noi cattivi eravamo e cattivi rimaniamo appunto e basta ora un'altra variante che è necessario accennare prima poi di andare a vedere nel dettaglio i concili di Orange e di Trento è il cosiddetto semi-pelagianissimo in che senso? allora voi sapete che il pelagianissimo dice fondamentalmente che l'uomo si salva da solo con le sue forze il semi-pelagianissimo insegna che spetta alla sola libertà dell'uomo quindi senza bisogno che intervenga Dio l'inizium fidei cioè la conversione l'atto della conversione e il termino sfidei cioè la perseveranza finale lasciando alla grazia di Dio solo l'augmentum fidei cioè la crescita nella grazia nella vita cristiana stupidaggine grosse quanto una casa perché non c'è conversione se non c'è una chiamata esplicita della grazia di Dio un'azione vedremo proprio determinata di essa e soprattutto non c'è perseveranza finale senza l'ausilio della grazia di Dio assolutamente ora il sinodo di Orange ha condannato senza appello sia pelagio che i semi-pelagiani chi vuole approfondire si trova tutto nel Densinger il secondo sinodo dal numero 370 al numero 395 io faccio soltanto una sintesi perché non è il caso di soffermarci si troppo anche perché c'è quel ciclo di catechese ripeto dedicato che approfondisce tutto di più allora numero 1 cosa viene detto nel sinodo di Orange che il peccato originale ha degradato tutto l'uomo dottrina cattolicissima che la colpa di Adamo passa ai suoi discendenti che il libero arbitrio non è rimasto uguale è indebolito ma non annullato per cui ha bisogno della grazia per la salvezza ma mantiene intatte le sue funzioni anche se indebolite la grazia preveniente è importantissima è una verità di fede cioè senza una azione preventiva della grazia di Dio noi non combiniamo niente di buono né tantomeno possiamo convertirci perché la Madonna che dovunque appare considerando anche solo le apparizioni riconosciute che cosa chiede sempre pregate per la conversione dei peccatori pregate per la conversione dei peccatori se ci avessero ragione i semi peragiani che così si possono convertire da soli a che serve? serve perché c'è una grazia preveniente serve perché il peccatore per quanto sta in lui si mette in stato di dannazione non ha nessun diritto di essere chiamato a conversione è un dono di Dio anche in chi è giustificato aggiunge il sinodo è la grazia di Dio che lo preserva dal peccato e gli consente di accrescere i suoi meriti infine afferma che è eretico chi afferma la predestinazione al male cosa che non avrebbe avuto alcuna remola di fare anche se 1500 anni più tardi circa no un po' meno 1100 circa Giovanni Calvino il consiglio di Trento fin degrado sul peccato originale Densinger 1510 1516 afferma ribadisce ovviamente la nottina del consiglio di Orange e da qualche ulteriore dettaglio primo del peccato originale abbondato in peggio tutto Adamo e la sua discendenza perché la sua prevaricazione nuoce alla sua discendenza è trasmesso per generazione quindi attraverso la generazione sessuata ed inerisce a ciascuno come proprio questo è il termine tecnico inerisce a ciascuno come proprio e solo Cristo può toglierlo e il sacramento con cui si toglie il sacramento del battesimo quindi i bambini non solo devono non solo possono ma devono essere battezzati e il più presto possibile perché solo col battesimo viene tolto il peccato e si rinasce come nuove creature e infine la concupiscenza che perdura dopo il battesimo non è in se stessa peccato ma solo inclinazione al peccato ed è la dottrina cattolicissima questo è fondamentale figli animi cari perché non abbiamo una visione dell'uomo corretta quindi l'uomo è libero ma la sua libertà adesso è indebolita l'uomo è inclinato al male ma può opporsi e non è farlo per forza in maniera necessitata o l'uomo ha bisogno di essere salvato e non si salva da solo Gesù Cristo non è un optional è il salvatore universale dell'uomo di ogni uomo e di tutto l'uomo non sono chiacchiere a vambera queste qua cioè come dire elucubrazioni filosofiche tanto per farsi una chiacchierata a tavolino perché sono cose che hanno delle enormi conseguenze a livello di vita vissuta ora la teologia contemporanea riguardo questi temi è un po' in difetto perché la dottrina del peccato originale è la grande assente adesso in tanti tipi di discorsi perché il progresso scientifico e il cosiddetto ottimismo antropologico sono state evidentemente una causa di crisi della dottrina sul peccato originale peraltro la storicità dei racconti genesiaci che per millenni o per secoli non è stata discussa dall'illuminismo quindi da verso la fine del settecento hanno cominciato ad essere messi in discussione e dinanzi a questo status quo dal punto di saputo teologico alcune reazioni sono state di fermo dissenso altre tentano di mediare le pretese della scienza che è scientista e le esigenze della fede questo è il quadro sto cercando un quadro fenomenologico volendo concludere ci sono varie possibilità diciamo così di lettura della problematica inerente al peccato originale stiamo verso la conclusione di questa puntata primo c'è l'indirizzo storico e questo è quello proprio dei teologi cattolici fedeli alla tradizione in base ad esso la genesi ha carattere storico il peccato originale è un fatto che ha segnato l'essere dell'uomo fatto storico realmente compiuto dal nostro genitore all'inizio del mondo e che produce delle conseguenze su tutto il genere umano in ambiente protestante così capiamo anche certe accentuazioni da dove vengono prepara un indirizzo cosiddetto esistenziale quindi il peccato originale non è un fatto storico ma è un'idea teologica che serve ad esprimere l'atteggiamento fondamentale di peccaminosità dell'uomo che tende ad autogiustificarsi e a glorificarsi davanti a Dio questa per esempio è la posizione di due pensatori protestanti che sono Bultman e Barth poi terza posizione l'indirizzo cosiddetto metafisico non compatibile con la sua continuità cattolica anche se ha il suo fascino cioè i racconti del genesi non sono storici ma hanno un valore simbolico vi raccontano l'uscita dallo stato di innocenza che l'uomo vive quando prende coscienza della sua finirezza i fatti storici del libro della genesi sono certamente forse non forse anche valore simbolico ma non in se stessi valore simbolico infine altre insomma cose abbastanza allucinanti questo perché capiamo l'ambiente in cui oggi ci troviamo perché ci stanno sei linee di lettura di cui una sola è quella giusta non parliamo di uno dei teologici più pericolosi che ci sono stati che è Tegliard de Chardin che addirittura dice che il peccato originale è una fase necessaria dell'evoluzione dell'universo che è da situarsi tra la creazione e la redenzione questi meccanismi dinamiche egheliane per cui l'antitesi necessaria alla tesi perché si arrivi alla sintesi quindi c'è la creazione c'è la redenzione quindi la creazione Dio crea il mondo perfetto la redenzione è che Dio ripristina l'ordine creato perfetto quindi fa una nuova creazione vuol dire che c'è stata una degenerazione per forza e questa sarebbe rappresentata dal peccato originale quindi è una fase necessaria della evoluzione dell'universo o poi c'è l'indirizzo sociologico di alcuni autori secondo il quale il peccato originale non è un atto personale di età medeva ma è espressione ancora del peccato del mondo ecco l'agnello di Dio ecco quello che toglie il peccato del mondo si dice prima della comunione quindi il peccato di Adamo concorre certamente insieme agli altri peccati lo fa un po' di più magari per antonomasia a costituire il complesso peccaminoso denominato peccato del mondo poi infine il cosiddetto indirizzo personalistico evolutivo cioè basato sul concetto di opzione fondamentale altra categoria mamma mia figlioli miei cari cioè il peccato originale di Adamo è stata la sua opzione fondamentale contro Dio e secondo questa posizione avvenuta nel momento dell'evoluzione cosmica situabile nel passaggio dai primati all'uomo e questi continuano se Adamo non avesse peccato ci sarebbe stato un ulteriore grado evolutivo non il semplice animale razionale ma l'uomo in Grazi capite che questi sono gli orizzonti in cui oggi ci troviamo a muoverci ma come già detto quello giusto quello cattolicamente corretto è solo uno la chiesa è sempre stata sempre difeso la storicità la realtà e ha sempre come dire evidenziato sottolineato valorizzato l'oggettività e la verità dei fatti così come vengono riportati forte anche di quella interpretazione autentica data dalla tradizione di certi passaggi o di certe cose che ne rendono assolutamente per noi inoppugnabile attenzione che è fondamentalissimo per noi acquisire una dottrina corretta di questo peccato originale conseguenze numero uno i bambini non si battezzano quando è ora che prendono moglie i bambini si battezzano il più presto possibile come diceva il buon catechismo di San Pio decimo entro massimo il decimo giorno di vita questa cosa deve essere ripristinata figli a battezzare i bambini a otto nove dieci mesi un anno quattro anni cinque anni sei anni sette anni non pensiamo forse che la sana dottrina cattolica sul peccato originale sia andata a farsi benedire purtroppo purtroppo io penso proprio di sì quindi prima conseguenza quando battezzi i figli ma seconda conseguenza seconda conseguenza quanto io riconosco Gesù come mio salvatore e quanto realmente concretamente mi faccio salvare da lui cioè poi di fatto quanto prego come e quanto uso i sacramenti quanto bene li so ad operare terzo una sana fiducia nella nostra vera libertà perché il libero arbitrio c'è ancora quindi anche le interpretazioni di alcune nostre dinamiche noi quando pecchiamo non dobbiamo mai andare a cercare centomila giustificazioni o a scaricare come hanno fatto Adam e Eva la colpa sugli altri quando ci confeziamo possiamo dire eh padre sai che devo dire mia suocera mi ha fatto arrabbiare se sentite l'italiano mi ha fatto arrabbiare quindi è stata lei non è che io mi sono arrabbiato è colpa sua non è così sicuramente se sei una personalità difficile ti provoca ma il peccato lo fai tu perché certamente noi siamo indeboliti ma siamo ancora liberi e con l'aiuto della grazia possiamo non peccare e attenzione non è vero quello che dice Lutero che qualunque cosa fai pecchi non è affatto vero e non lo dice solo Lutero purtroppo perché queste cose circolano in ambienti cattolici peccato 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 non fa nient'altro che peccato è una situazione ineluttabile da cui non si può uscire siamo peccatori e quindi facciamo sempre i peccati ma chi l'ha detto questo qui quali peccati facciamo sempre che dobbiamo confessarci pure tutte le settimane certo che li facciamo ma quali però quelli commessi con piena pertenza deliberato consenso in materia grave ma non esiste proprio San Paolo stesso che è il più grande come dire assertore del peccato di Cene dice ma come per il fatto che dobbiamo essere redenti da Cristo e che abbiamo bisogno dobbiamo commettere peccati gravi mortali ma sarebbe assurdo una cosa del genere e attenzione alle letture evolutive noi abbiamo una chiarissima ricostruzione e datazione biblica vogliamo rinnegarla e svenderla o calpestarla perché qualcuno che asserisce di essere super scienziato la mette in discussione cioè la vogliamo finire questa cosa è nata dal 1700 in poi continua anche adesso anzi adesso prosegue più che mai a sentirci inferiori ecco ma questi sono scienziati quindi questi insegnano le cose che hanno studiato queste sono cose vere io sto ancora vado ancora in giro con la favoletta del peccato originale ma guardate che purtroppo io temo che questo sia il pensiero di molti come se questa non fosse veramente una delle cose in assoluto più importanti va bene amici possiamo fermarci qui e appuntamento alla prossima puntata e che Dio vi benedica e la Santa Vergine sempre vi proteca grazie a tutti grazie a tutti